Era una vittoria che ci poteva dare morale, ci poteva dare tanto, eravamo magari più carichi, però va bene dai, ci sta il calcio anche questo. Purtroppo può capitare pure di pigliare gol agli ultimi minuti, però non ci dobbiamo abbattere, dobbiamo magari continuare come abbiamo fatto sabato. Allora al primo tempo abbiamo giocato a due, secondo tempo poi mi siamo spostato alla sinistra, con l'ingresso di Carraro la squadra è migliorata perché si vede, Carraro è un giocatore fondamentale per noi, c'è tanta qualità, poi lì in mezzo al campo fa la differenza. Sì mi sono trovato bene, solo che magari da ala, da esterno, che non ho giocato spesso lì, mi è capitato questa, sa che è la prima volta che gioco lì esterno a sinistra. Quindi magari mi sono allontanato un po' dalla partita, però poi mi sta cambiato, ha messo al tre, mi ha messo mezz'ala a sinistra. La mezz'ala è il mio ruolo, quindi mi piace giocare lì e quindi mi trovo molto bene lì, anche con Carraro lì in mezzo mi trovo molto bene. Cioè le sensazioni sono più che positive, il gruppo penso abbia risposto bene sabato, ha seguito quello che ha detto il mister, ma credo che abbiamo delle giuste motivazioni adesso magari in più perché anche sabato, non so se avete visto pure voi, che abbiamo avuto una reazione, abbiamo fatto sotto l'aspetto magari caratteriale, abbiamo dimostrato di più delle altre partite.